Al via dal lunedì 1 febbraio al Valdichiana Outlet Village la stagione dei saldi. Come confermato da tutti gli indicatori, stavolta come non mai i saldi saranno all'insegna dello spendere meglio in maniera mirata. Poter accedere a capi di qualità a prezzi outlet ulteriormente scontati costituisce da sempre un elemento di forte attrazione per il pubblico del Valdichiana, chiuso in questo periodo di pandemia durante i fine settimana. I nostri 130 punti vendita, rimarca Riccardo Lucchetti, manager center, garantiscono uno shopping intelligente, conveniente, pieno di novità e un'offerta flessibile, capace di intercettare i mutati trend e le esigenze imposte dalla particolarità del momento. Tra i tanti segnali di cambiamento che il direttore intravede, ci sono però delle importanti certezze. La nostra proprietà, dice, ha continuato ad investire sulla struttura del Valdichiana Village anche in questo periodo così difficile, così da rendere l'esperienza di visita più accogliente e la permanenza dei nostri ospiti sempre più piacevole. Nelle scorse settimane sono stati infatti realizzati nuovi spazi relax, con l'aggiunta di aiuole e camminamenti dove sarà possibile prendersi una pausa dagli acquisti dei saldi in tutta sicurezza anche in questo periodo di pandemia.